benvenuti benvenuti cari amici siamo ubiti questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like e iscrivetevi al canale e per cui iniziamo subito iniziamo con la market cap totale delle cripto pari a 1.42 trillions quindi siamo leggermente in calo ma come vediamo del grafico rimaniamo ok bullish in questo momento come vediamo delle trendline per cui io al momento non mi preoccupo già qualcuno vede 47 mila su bitcoin si sta preoccupando e al momento non vedo questa grossa preoccupazione andiamo a vedere per cui la dominance ok su bitcoin che sta calando ok pian pianino siamo in una fase di stallo è vero però se andiamo a vederlo stiamo all'interno della trendline discendente ok ancora e stiamo anche per andare a chiudere ok per cui sembra che al momento nemmeno ci voglia essere questa rottura di bitcoin nei confronti delle alz e anzi potremmo avere presto un abbassamento anche sotto ok ai 60 vediamo un po che cosa succederà in questo mese di marzo che sembra veramente così un po un po duro è potrebbe essere duro lo sappiamo dallo storico ricordiamo 10 febbraio scusate 10 marzo dell'anno scorso dove eravamo che cosa è successo ok andatevelo a vedere e dove siamo oggi questo deve essere molto a molto importante per cui subito analisi su bitcoin allora al momento quello che è successo proprio in giornata di oggi abbiamo preso un minimo a 46 3 come vediamo la trendline siamo ancora diciamo bullish ok anche in questi giorni qua siamo sul giornaliero però se andiamo a prenderlo sulle tre giorni vedrete che siamo bullish e quindi che cosa da dire dobbiamo monitorare innanzitutto questo livello il 45 mila perché se andiamo a chiudere sui 45 la situazione può tornare critica ve lo dico subito ok naturalmente andremo a chiudere un testa e spalla che non è mai il massimo qua avevamo avuto proprio un calo flash e abbiamo la diga ai 43 mila ok io la chiamo diga perché se passiamo questa la situazione diventa critica al contrario invece abbiamo qui quella che la resistenza sui 51 mila al momento se noi continuiamo a camminare comunque su queste zone qua direi che non ci sarà alcun problema rispetto a ieri che cosa vedo per il momento vedo una candela giornaliera che risulta essere molto più piccola rispetto a quella di ieri ok come dump per cui per ora abbiamo avuto un dump che è veramente piccolo rispetto a ieri circa del 3 per cento ok quindi non è tantissimo per bitcoin che semplicemente in una giornata può anche farci come ben sappiamo anche il 10 per cento secondo me il momento io perlomeno non mi preoccupo giornata normale e oggi vorrei analizzare con voi delle coin che di solito non analizzo le vedremo subito per cui ricapitolando la mia idea è questa per quanto riguarda questa trend line finché rimaniamo intorno ai 45 mila ok non c'è da preoccuparsi se prendiamo i 45 mila gli potrebbe scattare il campanello dell'arma e poi che andiamo a chiudere questa struttura ok questo è riassunto andiamo a vedere per cui delle coin che di solito non consideriamo ok partiamo oggi con audio perché audio era da un pochino monitoravo vediamo che ha fatto cose straviglianti ok praticamente a gennaio stava a 15 centesimi oggi sta a 0,60 e vorrei dire ai nuovi una cosa quando voi andate a prendere queste coin audio mi sembra sta tipo in tre centesima posizione state molto a molto attenti perché a livello psicologico sono molto pesanti guardate qui audio 0,28 0,13 cioè se le prendete le prendete per l'holding ok quindi ma arrivare anche un dollaro probabile ok magari però sappiate a che cosa andate incontro andate incontro a cose del tipo 0,54 0,34 in tre giorni che possono essere molto a molto pesanti per cui io sostengo sempre attesi by the dip ok oggi vi mostro queste perché mi sembra importante perché so di tante persone che entrano nei nuovi mercati vedono in che parte ci si buttano e magari sono dei pump and dump architettati ok dovete avere sempre la visione andiamo per cui vedere cilis molto molto bene ne parlavamo i giorni fa ora cilis però attenzione attenzione perché ieri siamo arrivati addirittura a 0,15 ok oggi nuovo minimo a 0,14 e secondo me cilis ha bisogno di di uno scarico ok perché non può continuare così come vedete quando scarica scarica forte quindi penso che farò un'entrata su cilis ok però aspetto se va su nulla nulla aspetta un bello scarico ok io ho già dei cilis ok non ne ho tantissimi ma ce li ho però vorrei rafforzare comunque le mie posizioni perché penso cilis sia veramente un grande progetto per quanto riguarda pearl penso pochissimi la conoscono sta facendo un'ottima struttura sembra che voglia andare sia a prendere i massimi probabile che lo prenda ovviamente tutto questo non sono consigli finanziari se vuoi cliccare buy se vuoi cliccare sell ve lo dico sempre pearl che stava veramente in basso però dei massimi storici molto alti per cui potenzialmente può avere un grande recupero guardate qui avevamo pearl anche a un centesimo al 5 di novembre per cui se credi un progetto è per questo che io credo in reef quando mi dicono reef ha già una capitalizzazione alta e così via io ragazzi guardo il potenziale ok quindi pearl potenzialmente potrebbe anche andare a passarlo andare oltre e fare quello che deve fare però attenzione io ve li mostro così proprio amidea engine engine sembra che ora potrebbe scaricare anche lui viene guardate qui che scarichi 0.66 0.35 poi si fa le cavalcate a 0.13 c'è una che quando scarica scarica ma fa parte del mercato sono come noi le coin quando siamo stanchi scarichiamo ok per poi magari ripartire verso su penso che ora engine dovrebbe fare secondo me un bello scarico addirittura è arrivato a 1.51 veramente tanto chi se l'è presa qua si è preso un bel palio ok per cui state molto ma molto attenti meglio comprarle proprio quando hanno scaricato tantissimo andiamo a vedere block stack ok che mi ha sorpreso che questa coin perché guardate qui c'è stava a 0.12 si è ora arrivata a 1.40 quindi in pochissimo tempo tipo in sei mesi ok potrà ancora andare su può farlo non può farlo non lo so ok dall'analisi comunque il trend sembra fortemente bull ok in entrambi i lati però attenzione io aspetto sempre gli scarichi oggi vi mostro queste coin per darvi un po' di d'idea ok di cosa può succedere andiamo a vedere la riff che riff è la coin che a me personalmente interessa più di tutte ok la riff praticamente quello che diciamo sempre è avevamo avuto questa rottura ok chiara del trend discendente abbiamo rotto ora riff quello che voglio vedere è che di non andare sotto i 0.035 dai sotto i 0.035 se teniamo questa struttura io su riff sono fortemente bullish ok perché riff andrebbe è cresciuta pian pianino tra virgolette per il mondo del crypto da qui da 0.025 a 0.042 comunque un 50% in 5 giorni ok ora un piccolo scarico anche del 10 20% anche 0.034 per poi ripartire secondo me gli farebbe benissimo ok perché partiremmo da sostanzialmente un nuovo livello che sarebbe tipo questo qua per magari andare a riprodurre nuovamente questa questa cosa qui quindi se riproducessimo una cosa del genere di circa 1.7 possiamo subito andare a prendere quello che è l'urta mai ok quindi questo deve essere il ragionamento no che vedo riff che scarica un pochino allora prendo paura ok questo deve essere il ragionamento per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di distruggere il bottone like iscriviti al canale e ci vediamo presto ciao